Buongiorno Amore, non mi interessa se tutte le tue compagne di classe ce l'hanno Non mi interessa, ma perché non le facciamo di un bel rosa? Rosa te, ma che dici? Cosa vuol dire che le vuoi lunghe? Ma, di lì qualcosa, insomma, consigliala No, no, lunghe no, le facciamo corte e senza forme Assolutamente senza forme, così come sono le lasciamo Magari non facciamo nemmeno un gel, ma un semi permanente che forse è meglio Ma scusami, se non si facessimo un french e poi ci mettiamo anche un bel fiorellino Puoi fare un fiorellino per lei, vero? Sì, certo Grazie Posso entrare? Entro Nicole, ma che cosa è tutto questo casino? Una cosa ti chiedo Viene un ospite, se per favore puoi dare una sistemata alla stanza Ho messo in ordine Un giorno prendo il tuo armadio e te lo ribalto Cioè, tutti i vestiti in mezzo, tutti i vestiti in mezzo Scusa, ma, cioè, quando ci vuole, ci vuole Non credo che tu sei così disordinata, no? Inizio Cioè, se tua mamma ti dice di fare una cosa, la fai Eh, cioè, mica come te Vabbè, comunque Ma che puzza di chiudo, ma apri le finestre, accendi le luci, non lo so Come fate a stare al buio qui dentro? Che caldo, che puzza, che tutto Vabbè, cosa volete per cena? Boh, è uguale, per me è indifferente Ordiniamo il pizze? Mmh, va bene Pensavo di ordinare per le sette e mezza, almeno alle otto arrivano, che è sabato, se no non ce le portano più Come le volete? Per me vegetariana, grazie Vegetariana, quindi zucchine, carciofi, funghi Senza carciofi, per favore, non mi piacciono Ok, questi carciofi, te li faccio levare Per me la solita Visto le patatine Da bene invece? Io coca cola Coca cola Te le bibite lasate, sempre l'acqua, fa proprio schifo, non ce la fai Per me è stata al limone È stata al limone tesoro, ok, perfetto Dai, va bene, allora vado a chiamare nel frattempo, per favore Andate una assista mattina Eh, ci vediamo dopo E aprite ste finestre perché Una puzza veramente di morto Grazie a tutti